La Camera approva. Passiamo all'emendamento 1.819 Braga. Parere favorevole di Commissione Governo. È aperta la votazione. Onorevole Rabino in arrivo. Piepoli. Patriarca. Provi. È chiusa la votazione. La Camera approva. Avverto che, consistendo il disegno di legge di un solo articolo, non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma, dopo l'esame degli ordini del giorno, si procederà direttamente alla votazione finale, a norma dell'articolo 87,5 del Regolamento. Passiamo agli ordini del giorno. Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibile ai sensi dell'articolo 89,1 del Regolamento, in quanto del tutto estraneo rispetto al contenuto del provvedimento in esame, l'ordine del giorno numero 34, Massimiliano Bernini, volto a destinare risparmi derivanti dalla cessazione dei contratti di locazione di immobili al miglioramento dei servizi sanitari. Se nessuno chiede di intervenire per illustrare gli ordini del giorno, invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere. Bene, Vice Ministro Nencini, ha le la parola. Uno, Fragomeli. Grazie, Presidente. Grazie, Presidente. Favorevole? Due Planger. Favorevole? Tre Vargiù. Favorevole? Quattro Marroni. Favorevole? Cinque Rostellato. Favorevole? Sei Verini. Favorevole? Sette Airaudo. Contrario? Otto Zaratti. Favorevole? Nove Pellegrino. Favorevole? Dieci Sanna Giovanna. Favorevole? Undici Nicchi. Contrario? Dodici Ginefra. Favorevole? Favorevole? Tredici Grimoldi. Favorevole? Quattordici Bossi. Contrario? Quindici Guidesi. Favorevole? Sedici Molteni. Favorevole? Diciasette All'Asia. Favorevole? Diciotto Simonetti. Favorevole? Diciannove Fiorio. Favorevole? Venti Fregolent. Favorevole? Ventuno Manfredi. Favorevole? Ventidue Carrescia. Favorevole? Ventitre Bragantini Paola. Ventiquattro Giulietti. Favorevole? Venticinque Dadone. Favorevole? Ventisei Fico. Contrario? Ventisette Mannino. Favorevole?